Ottaviano, la verità, proprio... Sì, voi che siete? Ah, ok, è quello che faceva i giochi matematici Oh ragazzi, ma smettete di rompere le palle o no? Mamma mia, scusami nonno Ma no scusami, se se ne va, perché venite a rompere le palle a quello? Madonna mia, ma anche il nome che abbiamo chiesto Gli ho chiesto come ti chiami, mi ha detto non rompere le palle, che ti interessa? Eh, perché non vuole parlarne, vedi? Se ne va, vedi? Dai, ciao nonno Ciao bello Oh, mi ha avviato questo camion? Ma dove l'ha preso? A dove l'ha preso questo camion? Oh ma... tu come ti chiami? Io? O professore? Sì Come? Professore Professore? Il professore, sì E invece lei, come si chiama? E che cazzo ne sono? Come non lo sai? E domandala a lei, non lo so, non lo so Ah, ma che sei scemo qua? Sei scemo o no? Si può sapere? Si può sapere sì o no? Ma guarda un po' te Ma c'è ne va di nuovo 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 Ehm Ma c'è ne va di nuovo Ehm Ma c'è ne va di nuovo Ma c'è ne va di nuovo Ehm 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 Fence Grazie per il follow Benvenuti Benvenuti ragà Benvenuti a tutti Come che bene Ehm Andiamo Ehm Ora glielo dico Ehm Hai Hai però vi voglio vedere se farò scontrato ancora ma che stai saluto? ehi ehi ma chi è? anche tu buonasera 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 come state ragazzi? bene bene eh 81 anni ancora già faticato noi ci rendiamo conto qua prende una pensione di 200 dollari al mese ma si può fare questa storia o no? è un po' pensionato ah vabbè secondo te 71 anni compiuti sono una rapina e che sto pensando di fare? una bella rapina e poi fai come? eh 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 mannaccia misera mannaccia io posso aiutarla con la torcia con la torta? torcia torcia ah che devo fare questa cosa? eh la può dare in testa un colpo a chi? a chi? io devo prendere questa qua quello che... come si chiama? governatore eh perchè? eh perchè governatore e lo stato e lo stato non ci sono pensione eh capito? eh dobbiamo fare... dobbiamo fare... una mese perchè è normale secondo te 200 dollari come fa con 200 dollari? non c'è neanche una panina ah non nemmeno un panino bravo come si deve fare? no dici ma voi come vi chiamate? ah? non ho capito? non c'è ne parla potabile io io sono marcos lui è federico sapevo che come? io marcos lui è federico ah ma qualche parte li ho visto o no? io sono suo nipote si si infatti si vede i capelli specialmente i capelli sono proprio uguali no no in realtà sono stato adottato dal suo fratello ah e senti una cosa che fate qui in città quanto siete? no tre giorni tre giorni? e che siete a fare? sempre la prima piacere a mio il professore deve sviluppare ah ma non è il professore? si voi che siete? ah ok è quello che faceva i giochi matematici questo è il mio cuore si e allora va a fare un giochino di matematica alla signorina ah ma voi quella sera quella sera no io non c'ero io sono il papà un po' di tutti non c'ero non c'ero non c'eravate? no io si che c'ero eh vi siete persi vi siete persi no no dai vi fanno uno dai dai mi sembra che voglia di ma dimmi una cosa ma vogliete fare sempre le pietre? che volete fare? non voglia volete fare sempre le pietre? secondo te non c'erano non c'erano non c'erano ma con chi stai tu? 4 o 5 euro amici miei ma sono 4 o 5 euro buona si si ho 4 o 5 euro così si fidate fidate ci possiamo sentire? si quante ne siete? un mese 30 di voi? si si è creato è arrivato con lo treno come è diventato? si è arrivato con l'aereo tutto intanto 30 di voi come è possibile 30 mamma mia eh ero in un'altra città non abbiamo limite capisci fammi mettere un attimo ok sto sussurrando ah eh si pure io allora no prima non sei sussurrò si siamo a cammini venite qua no disattivo un attimo la radio oggi perché sto facendo un attimo discorsi importanti e questi tutti a 30 non ce la facciamo qua allora si and forte e chiaro ok le cuffie me le levo che devo fare? no 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 siete venuti da un'altra città si si in vaga parola io stavo in un'altra città ero il capo mafia più grande di quella città e più forte si aveva un cartello sotto a me si pure io mi ero annoiato avevo proprio pochi problemi con il sindaco proprio così e a me non servono per c***o con tutti quanti la stessa cosa ci hai fatto pure io no veramente non mi mancava niente tenevo soldi con la palla si tenevo concessionari tenevo concessionari usati pure tenevo l'armaria tenevo tutta cosa tutto pure io no io l'importo però il problema è che diciamo tra parentesi il sindaco il governatore capito un po' e quindi ho detto basta 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 si e abbiamo preso l'aereo 4 o 5 di noi siamo venuti qua e siamo incominciati a fare le pietre ma ti pare a 71 anni devo fare le pietre? si eh fino a lunedì facciamo breve tenga una bella cosa in mente una bella cosa in mente una bella cosa in mente subito una bella scelta 200-250.000 dollari subito ma poi ci sarebbe problemi di pulire no no problemi non si non pulire non pulire di farli rintracciare questi soldi devi capire eh già di investirli di investirli di investirli di investirli capito? si investono si investono si rende una cosa ma 30 di voi come si fa? come si fa? in che senso? e nel senso che io penso massimo 20-25 più o più no tutti abbiamo detto non abbiamo limite andremo limite perché non sono nascendo sull'organizzazione ah ok ok quindi potete messo pure 5 minuti si rende una cosa si rende una cosa ma eh però parecchio a parte massimo 8-10 papù comunque si rende una cosa no papù questa si si senti una cosa senti una cosa ma come vi vestite? si possa vi sabbia come vi vestite? becce come stai? no no si manovra abbiamo fatto i vestiti adesso e come avete fatto? verde nessuno ci deve conoscere più di altri no no perché ho conosciuto parecchi ragazzi che becce becce chiaro becce tutti becce ma che cazzo? non ci ha mostrato proprio non ci ha mostrato proprio sti warner che il vestito là si usa solo per determinate cose capito a me? si 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 non ci ha mostrato noi non siamo scemo come chi lì che si fanno in mezzo bravi così si fa mi è piaciuto mi è piaciuto ragazzi noi teniamo il vestito nostro quando usciamo tutto quanto insieme si per i locali eh si 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 sono vestiti diversi da loro però vestiti lì si senti una cosa ma però voglio sapere una cosa a voi a voi facendo voglio sapere una cosa a voi si quant'hanno tenito off 33 a posto senti tutti quanti che ci avete in casa tutti quanti così si 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 eh ma dove dove siete in che senso eh dico tenete una casa una cosa che tenete no in un momento tengo una stanza in un motel ok pure ok ecco quella ma basta come quindi non da niente non da niente non da niente non da niente sai perché non mi ho pagato ancora una casa né niente perché voglio partire dai bassi fondi come ho già fatto alla non mi piace subito tutta la cosa hai capito subito una casa subito questo questa è la prima cosa partire da zero ma ti fa prima conoscere ma ti fa prima conoscere poi qui ti faccio tic tocco e mi faccio la cosa si hai capito si si può fare pure in altra maniera si può fare pure in altra maniera come si può fare anche che si fa guerra già qualcuno che ci sta e ci prendiamo la casa su bravissima tipo non lo so ancora se c'è qualcuno grove megamall quelle zone là grove alt grove bass oppure da parte però io penso che come ho sentito in giro la già sono armati troppo bene si 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 grove si però siamo vicino noi siamo vicino ci siamo vicino siamo vicino che sei aperto a usare non vi preoccupate non vi preoccupate i fili facciamo molto eh senti un'altra cosa ma a livello di rapine avete fatto qualcosa noi rapine a zero perchè noi puntavamo la ricorsa eh hai capito però per incominciare no abbiamo fatto il minatore per incominciare pure perchè io non metto il rischio l'uomo nei miei se non metto il mio pistolo capito ma che l'arabino basta una pistola eh ho capito però io non ho conosciuto i peccari che scappano gli arabi fuga e cittano tutti quanti mi sono fatto così che si può fare aggelerie saremo più o meno 30 contro 30 capito capito aggelerie saranno 30 gente fuori e 30 marivoli all'interno no no aggelerie su 3 ehi 30 30 e 30 capisci che senso nel senso che no si può fare massimo a 3 ehi ha già capito 3 e 3 ti sto dicendo riusci a 30 e 30 capito ah 30 e 30 30 interni e 30 poliziotti capito si 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 capito eh e praticamente tu 30 e 30 è stata armi parte capito questo si eh tu te ne fai uno uomo si si bravo a sparare questo si questo si ok io alla verità ho fatto una geleria e una blade buono però scappando però sempre scappando si 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 no io non non ne ho mai fatto salve ciao una cosa per caso mi interessa una pietra quanto le vende 17 il pezzo troppo troppo 15 le compro io adesso no ma ieri le ho vendute 3000 ieri 17 il pezzo eh va bene si ma ho capito per 2 dollari che ti cambia per 2 dollari che cambia potrei fare la stessa domanda no 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 aspetta mi ascolta me un attimo tu quella pietra dovresti venderla un terzo di quella la che ci guadagneresti chi lo dice ciao non ci sta il mercato cioè il mercato te lo crei tu però il tuo tipo il mercato me lo creo io ci sono aziende che compro una pietra c'è l'azienda proprio che compra le pietre eh vabbò io ti sto lì a quel prezzo dico dico siccome mi dici il mercato te lo crei tu no il mercato c'è vabbè ciao ciao ma che è successo? eh voleva venne i freddi la città si mette a 15 ma i figli e già è stato e 15 15 14 eh niente andai di tire ne ho giocato 3 diupi grazie per il follow benvenuto benvenuto mi te l'hai ci fatto l'offerta ragazzi è un bel follo al canale ah ma nero? no 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 lui è io sono il professore di Vesiana si molto piacere si è il secondo lui eh molto piacere molto guardate che noi siamo tutti cutola siete tutti cutola voi? eh veramente io so Federico Cutola ma vero tutto quanto eh ci abbiamo visto quando chiamiamo Cutola però Raffaele Cutola non si è chiamato ah no io ero sì e mi? io sono Donola ah sta vicino a me io sono io sono io sono io sono Giuseppe io sono Giuseppe io sono Giuseppe buono buono Ottaviano la verità proprio Ottaviano eh loro sono Giuseppe sono Giuseppe sono Giuseppe tutti quanti no 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 io a Verso no no Caserta pringi Caserta ah ma ti è già già conosciuto a qualche parte a me? ehi che cosa è? santa marica paveda che? santa marica paveda vieni tu no 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 ah no ok si avvicina si avvicina lui più o meno si più o meno si e lui l'ha visto che qualche bot già c'è muovere l'altro quante pistole da niente c'è? qualche ruolo zero no ma hai cattato adesso giro prima un prezzo un prezzo un prezzo tu ci sei dicendo qualcosa giusto? io ho sentito in giro da qualche locale a qualcuno ho sentito che devi vendere in attivo 40.000 40.000 ma le 9 le 9 si e il calibro e il calibro penso che si parla superiore 120.000 140.000 eh si ma qua è come in armeria però in armeria in armeria in armeria 52 e c'è un porto d'arma ah beh giustamente si c'è un 80.000 dollari quel porto d'arma come ti firmano per una cazzata te lo levano poi lo devi tornare a fare hai capito? allora non conviene ma anzi ogni mese ogni mese ma se ti firmano fa una cazzata ok te lo levano subito subito ma infatti se la filina penale è pulita non ti perquisano quindi al massimo se uno scappi o fai cazzata eh perciò ti dico ma lui ci vuole uno che non fa un cazzo che ti porta d'arma però tu se la prendi a nero la paghi meno del porto d'arma cioè meno no che c'è una foto lo porto d'arma non ho capito non ho capito perché perchè mi ha capito perchè ancora non ho trovato nessuna amicizia buona e quindi l'ho capito però è arrivato il secondo che mi sono muoviti si quindi ho portato da mamma è inutile che ho capito questo è che comunque se tu tu filmi la polizia tu filmi questa roba non ti perquisisci questa è la cosa si ma noi parliamo se si fa qualcosa è bene la polizia e ci parliamo direttamente bravo ma io sussurrata non puoi scordare sussurrata sempre sussurrata che vede si avvicina sempre assente vede o no? è vede? c'è c'è oh c'è picciale 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 le spalle le spalle non li ti vuoi andare ti vuoi andare ti vuoi andare ti vuoi andare con il fratello vabbè non si fa qua non si fa che qua non si fa e beh ma chi la di la stanno tutti che da la lavagna Sì, sì, sì. Il lato ti ha lavorato da 33 anni, tutto quanto? 28, 26, 30, sì. 30 anni, 34. Ma siete disposti a sentire uno solo? Sì. Ok. Allora stasera mi hai facito conoscere tutto quanto. Sì, sì. Ma io ne ho pure il cervello in capo, fratello. Mi hai scordato un uomo tu. Federico, Federico. Io posso essere un mucoso rispetto a voi, ho 28 anni. Però ti farò le palle quando ti farò, mi rendi più. Ma chi? Ho una camera per ogni palle. Chi? 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 Non è un po' di rischio, è l'inizio che c'è anche od 나왔ني, ma sono capito a me. Bene ho sempre fatto pelle con Attorney passe. Udono tutte quelle pesche. Sì, c'è un po' di panina Ma vorrei avere un numero meno Oh, scusa, mannaggia Ma io sono qui Sono qui spazio C'è anche questa errore Ho bello che non c'erano due Scusa, ma scelta di parlare Un maggior piatto che pino Mannaggia Ma Può essere un bambino A me mi interessa una cosa, oltre il cervello Ma all'arma Mi stanno a maneggiarsi, guardi Sì, sì Sono forti Abbastanza, due di loro Due di noi, sì Gli altri un po' di meno Ah boh, va buona Allora, a me ci interessa che ci chiamano Un Warp Goal, poi ci prendiamo noi in capo In capo? Un po' di più Ma a livelli che cambia, già hai visto qualcosa Sì Ti sento avuto? Sì A dopo, a dopo, a dopo, ciao ciao Non c'è un po' di più Chi c'è? Non c'è C'è qualcosa più buono, non c'è Non c'è in città Cosa? No, come c'è la roba buona in città Ma che buona? Chi è? No, io fai Ciao ragazzi Ciao, ciao Ciao, ciao È lui, è lui, è lui Identificati Ciao Steven Abbiamo anche chiamato il mio numero Mi ha mandato un messaggio Un'amost A me dici pure Federino Ah tu ti ho chiamato il mio numero No, ma io non aspetta che mi lo chiamato Chiunque non c'è il mio numero, chiamato Mi ha mandato un messaggio che è un amost Ma riusci, riusci Allora, 5 No, aspetta, aspetta Aspetta, aspetta Aspetta, aspetta Aspetta, 5-5-5 5-5-5 2-9-7-8-2 7-8-9-2 7-8-9-2 Ah, 7-8-2 Ah, 7-8-2 Oh, cazzo, stai fumato Chi è che mi stai chiamato? Io, 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 sto parlando Ma non mi chiamato Ti mando un messaggio che non lo posso salvare, non E tu stondi Stronzi Stronzi Che è successo? Che è successo? Che mi ha chiamato Zio Fandang? Spetta, non mando, vamo chiamare 3-8 passaggi Sì, sì Sì, sì Allora, forse è bene Hai, io mi arrivo a 500, brè Già mi hai scassato, Wax Quanto arrivo? Eh? Zio, che è successo? 500 Ah, ok Ah, ok, ma tutto a posto Oggi come sei con un numero? 555 No, ok, ok No, perché G7 è male Oggi ho riuscito a trovare un numero di 555 Io sto in minera Bambù Ragazzi, mettete tutti un bel folla a casa Tutti un bel folla a casa Dimmelo pure tu Marco Ciao, ciao, ciao Ti anima Oh, mi dissocio Oh Federico, ti ho mandato un messaggio Mi dissocio Stacca Oh, ma venite un po' più in quattro Se no non riusciamo a fare due Federico, c'è un numero numero 2 555, con? Sì 555 29782 Ma adesso hai capito una cosa Perché questo camion sta nel pre-time E chi la no? Un messaggio mi ha mandato Come no? Non ti è arrivato? No, Raffaele Mi ha mandato niente Come no? E a che agio mi ha mandato? No, Raffaele Ma con trattino o senza trattino? Senza trattino Senza trattino Eh, ha giocato io Eh, ha giocato io Aspetta Pairo pure mi ha riuscito Marcos mi ha riuscito Ah, ok Ok Pairo mi ha mandato addirittura lui Un maronna mio Un maronna mio Adesso mi ha mandato a cacchere un altro Un'altra cosa è la tua Eh, buono, ci sono Buono, ci sono Buono, ci sono Allora Come ti chiamo? Federico 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 5 5 5 2 9 Vedi, ti è arrivato Ti è arrivato Ti è arrivato Ti è arrivato? Ti è arrivato? Ti è arrivato? Ciao Chi è Ivan? Mi ha mandato lui Ciao Io? Perché io sono Marcos Eh, lui mi ha mandato Io mi ha mandato Steven Vediamo Raffaele O Proffessore Professore 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 Andiamo Zambano i combatti Ehi, stanno Facciamo Ehi, che si raffirate per ricchi No, no, siamo venuti ragazzi Aspetta, aspettate, vieni qua Ah, portati, lo Quanto… fai 5,5? 3500 3500 dollari per 10 5 panini e 5 gotti ma ragazzi siamo a new york grazie per il follow benvenuto andiamo hanno caduto i cuffietti e cuffiette e lento quando sono anche 10 mila euro mannaccio guarda turco come vedete di subendo ecco qua e non mannata rubrica già con gioca già metto iniziato a mangiare buona ma la radio a tenere una rabbia no come la sera ma da giunice pure un coppa l'applicativo che tra si ha in ogni botto che tra si vinta la città sta volendo l'applicativo perché c'è un massimo controllo di tutto quanto c'è sapere chi ci sta in la città che qualsiasi cosa si può facciare video ma ci chiamiamo c'è un'altra città che c'è un'altra città che ha il freddo ma tu lo tenete più sotto io uno tengo si buono buono qualsiasi dettagli ha speso? no vabbè mi hanno regalato ah 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 sì 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 tenete un nuovo po po 50 un nuovo po no diciamo che se sono soldi che lento in questa città è poco che vi raggiungo più 50 non è che i 50 c'è stanno c'è stanno ma non troppo però non troppo però eh dipende dipende all'inizio mi guarda me all'inizio è meglio cominciare dopo però si vuole sì 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 perché sta troppo bisogno noi siamo forti e spariamo ah boh questo sì non abbiamo bisogno sì ma cosa si parla forte eh sì sì lo so lo so lo so cosa si deve fare l'imbresa si deve fare l'imbresa chi è la prossima volta che vieni a bella più ti faccio pagare il triplo oh si abbiamo un'informazione signori abbiamo un'informazione ma qua 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 chi se sbaglio man ti schippat За saluto dimmi dimmi tutti segnalati belle view belle view magari si chiama Amalia che la voglio? tu solo segnava tutto coso prima, è la stessa cosa si io tengo il discervelli, chi è? no, Marcos si chiama Amalia quella ragazza? no, ma gli ho detto di abbassare la voce poi che? ma si può che non si trova perchè? perchè? si andava nella bocca in amicizia e metti una bocca in mano a te, vai ma che vuoi? non so, non so non so, non so non so ora chi? aspetta? wow, 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 wow che ditta sporca, guarda già sei pronto e che pack? e che lo ha avuto? e che pallino? oh, illumina mi la sotto, illumina la sotto il nome non vuoi che si sta a waller illumina, illumina, illumina ma c'è un marrone in mezzo e che spada, attacca, vai e che omm come? come? 38 anni? una bocca come? come il video? 38 anni? una bocca io beh non mi ricordo qua non mi sento questo video non mi ricordo non so, vuoi un video? non so vado un altro 10 e me ne vado vabbè vabbè non li devo non so, non so, non so vado un ragazzino io devo quanto mi vuoi ricordare come hai? i fai voli ok ha c'era se consumate le ditte tenete promuda funziona lo stesso e infatti com'è che hai fatto? così guarda guarda ma com'è? voglio un'altra non facciamo una segretista oh no 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 ah ma così non so che tenete promuda non mi trovo e se non mi tenete promuda tu ti gioca la cosa la coppa non bello stuzzica dentro ui carne è 6 e 10 eh? no 6 e 11 mannaggia ho già fatto di 9 ma il signore c'è stato tutto 1 i 10 9 non si può uscire non si può uscire non si può uscire da lunedì in voi capisci a me? non si può uscire oh Federì è proprio io se ti saranno i soldi dimmelo andrò muori il barco facciamo rimane pomeriggi va bene zio va bene si si siamo tutti siamo tutti quanti alla raccolta eccoci qua oh 7 di 9 6 e 30 6 e 30 vieni qua si vieni qua parla pure qua no 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 non dai così no 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 tengo un po di roba aspetta eh ma metto i coltini ma buono ragazzi la va a lavarci il piede, la va a lavarci ma la va io e fa una bella tocca che non mi lava una settimana ma buono, la va a lavarci ciao ragazzi andiamo a lavare due pietre e poi ci divertiamo un po' ragazzi non dico assai, fra due giorni facciamo una bella rapina vediamo un po' che curva che facciamo, vediamo che curva, che curva, andiamo andiamo oh ora per lavare ragazzi mi pare che è buono andiamo 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 ragazzi andiamo facciamo i primi soldi quando abbiamo? abbiamo 30.000 circa da parte facciamo i primi soldi e poi ce ne andiamo ragazzi chi vuole scrivere un messaggio importante ok basta che fa i punti canale con i punti canale si può scrivere un messaggio d'abbonato ma che c'è sta qua raga penitenziario che c'è sta qua raga sta i cami che c'è che cazzo mano no 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 ciao bello ciao caro ma non è un veicolo una domanda per caso sei interessato a delle pietre no la verità se te le compri tu a 16 te le do e io le vendo pure andiamo 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 a lavorare eh sono appena andato via bello prendi una macchina bello prendi una macchina prendi un amico no mo prendi una macchina ma prendi una macchina ce l'ha una macchina qua bella no c'è la moto c'è la moto ah hai due io devo andare alla pietra ma devi lavare si tu e anche io andiamo andiamo hai capito sta la striscia chiodata la non me ne sono accolto ma dove eh in dietro ma che ci fanno la striscia chiodata? eh che ne so stanno due strisci chiodate stanno dieci macchine bucate eh ma le devono lavare la polizia non le posano eh ma infatti sono dei pezzi di merda ma ce ne usciamo noi eh ma come ti chiami? il professore dove si chiama? o professore no dico ci conosciamo noi due perché mi sembra una voce familiare eh non lo so tu chi sei? io sono Leonardo Leonardo tutto l'ho ah io sono Raffaele chi è? oh finito ma che tutti ci sono da questo pieno di mezzini ooooooooo e chi c'è s'acqua? ma che vuol dire che non ancora ehm vabbè vedete qualcuno ha un bagno dell'acqua se questo cazzo l'ho chiesto io e non ce l'hanno guarda qui è arrivato il bagno dell'acqua oh oh chi è che mi dice che sto pelato? chi? qualcuno ha un bagno dell'acqua un bagno dell'acqua si dai c'è un bagno oh senti militare mi senti? militare mi senti pezzo di merda ma perchè? ma perchè? vecchio vecchio di merda pezzo di merda ma perchè pezzo di merda? perchè quello è quello sento che fai perchè non risponde non risponde ma che vuol dire? vuol dire che devi rispondere niente faccio le pietre ma chi è questo? si perchè mi riparo dal caldo no mamma ti manca tanto a te oh qualcuno oh 104 ce l'hai dell'acqua ma che ti pare? io sto a morire di fami vabbè ma tanto con tutti i soldi dai vendi della pensione allora ragazzi se dovete parlare se dovete parlare cantate una canzone e basta è vero è vero cantiamo una canzone cantate una canzone ce la vedo ci vuole il legno 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 il pietro, non vado la vado è profumato la vado è profumato io io l'indepinto sentite, io già mi sono rotto il cazzo che tengo 71 anni di lavorare a queste cazze di pietro mi sono rotto con io, prendi 200 dollari al mese, avete capito o no? avete capito? si, si, nonno eh, voi dovete lavorare voi e portare i miei soldi a me tutti quanti pure si, si, si secondo te è giusto che 71 anni ancora non vado in pensione le pietro, le pietro, chi me le compra a me? chi me le compra? 10 o 10 o 9 si è male sul posto che le compro io hai capito quante pillole a comprare ciò? no, no hai capito tu? voglio anche io pillole nonno, vieni che vuoi? la pasticca, che vuoi? si, le pillole, quelle che prendi tu e quelle là ti fanno male a te eh, non è problema ti posso dare trip o trip o funghetta, ti piace funghetta o no? salve 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 giovanotto, salve salve eh, chi le canta una canzone? chi le canta da qua? 1-104 oh, mi date un panino, per favore ma chi cazzo c'è là il panino? datemelo a mia a me, a me, eccomi io, 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 no, l'ho detto io io mi serve 653, 653 si, sto cazzo dai il culo te lo piazzo dove devo ornì? numero 653 raga, ma questi stanno bene anch'io, anch'io no, no, noi, lui questi non stanno bene ragazzi, tutti ammettere un per favore al canale se volete mandare un messaggio importante potete farlo con i punti canale, ragazzi potete cliccare sui punti canale e inviate un messaggio di abbonato arrivo arrivo, arrivo che c***o adesso lo vio io oh no oh, a me a me, leoncino a me a me a me il panino eh la bosi questo è un ghezza vabbè raga facciamo così levo un po' allora quante pietre dovete fare? quante pietre dovete fare? mille mille allora facciamo così io le posso vendere le volete comprare? quanto me le fai? 25 si attacca a Lucazzo stai fuori prezzo fra fra, facciamo 50.000 e via allora facciamo così chi è che ha detto che si attacca a Lucazzo? chi è? oh ci vedo un banino, vi prego chi è? io pezzo di merda chi è? io io chi? la cazzo di mani chi cazzo dice? che cazzo dice? te butto la tendiera a presto te butto oh c'avete un banino copperutto benvenuto te zicco la tendiera in testa dai un banino datemi che cazzo sei? datemi un banino me lo pago 20 pietre vado in dire in testa chi è che l'ha detto su? io parla io oh e parli dopo che mi sono rimesso a lavorare a strunzo pezzo di merda pezzo di merda risa? tieni rispetto pezzo di merda scendo giù te spacco a botte risa è in corso eh scendi scendi eh ma fate il commento scendi ti aspetta scendi ti aspetta ragazzi ammazzate perché io mi piore il vostro credo ok? ragazzi tutti a mettere un bel fallo al canale pezzo di merda zitto ecco un altro ecco qualcuno semplicemente sì 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 vieni qua vieni qua quello là con le mani azzate tu magna magna arrivato vai c'è il ragazzo che vende i panini ce l'avete un panino? oh c'è il ragazzo che vende ce l'avete un panino? lo vende lo vende ciecato lo vende un panino pezzo di merda che fai non saluto eh non saluto facendo se vendete una cosa se prendete invece 3 più 3 è 2.6 100 più 5 è 3.5 3.5 azzitzi chi è azzitzi? azzitzi ma chi è essa azzitzi? gg che cazzo è azzitzi? oh signor che vuoi? signor che fai? non salutino a me? 3 per 3 e 2.6 ah adesso signore dell'altro giorno mi levo eh? signore dell'altro giorno sì 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 ciao perché non saluti pezzo di merda ciao sento ciao non ti avevo riconosciuto eh volevo dire il coso che ti ho fatto è il coso di matematica l'hai risolto o no? no no e loro sei un pezzo di merda niente eh basta da chi è riconosciuto la fattura? chi è che si è avvicinato a loro? dammi il numero a tu che ti devo scroccare una pistola dammi il numero vieni qua pezzo di merda vieni qua scappi eh scappi ma dove stai? ma dove sta sta pezzo di merda? hai dubito dove stai? oh no non ti ha posto sì sì sto cercando quello lì dove stai? ma dove stai? pezzo di merda che d'acqua ma dove scappi? dove scappi? sto più per uccello vedi? aia porca puttana ma mi spaccavo la capa dicevi dammi il tuo numero dammi il tuo numero ma che ci vuoi fare? fatti cazzi tu dammi il numero ma allora 55 55 aspetta che già non sento bene 55 55 ancora aspetta come ti chiami? non mi ricordo Ethan 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 mi chiamo no il numero 55 55 55 55 39 48 48 45 38 39 è arrivato o no? è arrivato? si comunque poi ti chiamo assassino va bene? va bene arrivederci si si tutto a posto questo è bravo ragazzo bravo ragazzo allora ragazzi giovanotti proprio diretto giovanotti dicevo dicevo adesso vi rimango le pietre senza lavare e mi date le pietre lavare va bene? si si facciamo 50 quanto a testa e io me ne vado? va bene? va bene o no? 6,5,3 ma sei pieno? nessuno che aiuta un vecchietto non lo so vabbè perché fruttato buono a ridersi vedi quel ragazzo lì in fondo ma qua siete tutti pezzi di merda non hai aiutato un vecchiarello è incredibile è incredibile chi c'ha una pietra? una pietra? ne tengo 10 la tengo io tieni che numeretto sei? ma non me la puoi dare che numeretto sei? pensate a me? 1 1 4 1 1 4 1 ok te ne ho passate mille va bene eh non mi è passato niente come no? aspetta un momento le prendo io qualcuno alt dimmi a una una ne basta una ma vai prende prendi che ha bisogno di cibo venga qui dalla scatola ce l'avevi anche in più abbiamo arrottato tutte e due si un attimo adesso dammi 10.000 dollari molto mi faccio 10.000 solo a vendere queste qua guarda questa è una pietra d'oro è perché a me l'oro non mi piace mi piacciono i soldi io devo lavorare a 71 devo lavorare e voi guardate guarda come guardate guardate le musciche guardate no a posto ma quella che appa le musciche 5 e 5 ok si jenny ero nino io ero nino mi ha fatto questo personaggio per le salute è un pezzo di merda che cazzo vuoi mi diverto un poco è divertente è simpatico lucchino dimmi ragazzi tutti a mettere un bel pollo al canale tutti a mettere un bel pollo al canale dammi un attimo che ho le corde vocali basta due secondi pronto chi è? pronto chi è? pronto pronto dov'è? dove sta? su una lavaggio a pietro vieni 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 così finiamo qua mi serve bene i soldi capito? vieni 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 ti aspetto ci sonoenza ho effetto ho perfetto ci sono tutti i soldi ah mannaggia si si è il 6 mendoco 6 euro canale eccola qua wilyschmitt oii rev sentimental Comunque è un menù 5-5 comunque, faccio fattura. Uè, Willishmi. Uè, ma tu con il G-Bot anti-progesterone. Eh, che si fa? Vai, Hitche. Ti chiamo io, va bene. Vieni a caricare la nonna, va bene. Ciao. RORU SENATOR Grazie per il rispondo, bello, grazie, benvenuti, ragazzi, benvenuti a tutti, benvenuti. Run. Ma che è successo a quello, vai? Senti, veramente. Raga, ma questi non ballano qua, ma che ha? E' oh. Ma che ha? Fammi riempire. Pezzi di merda, mi sentite o no? Comunque il figlio di vecchio, raga, è bello perché posso dire tutte le parole che voglio chiedere a tutti, nessuno mi dice niente. E' incredibile, raga, mi diverto proprio. Signor, signora. Mi sta parlando con me? Sì, sì. Mi dica. Come si chiama? Mi chiamo Maria. Ok, Maria, io tengo bisogno di una batante. Lei è disponibile. E quindi che vuole da me, scusi? Non ho capito. E che vuole da me, signore? E i ragazzi qua dicono che lei è batante. No. Non bate i vecchietti? I poveri vecchietti indifesi? No. Ehi. E niente vecchio, sono andato male. Niente? Sono trent'anni. Sono trent'anni che mi fa male. Porca puttana. Non lo hai dì? Chi è sto pezzo di merda? Chi è? Amairi. Pezzo di merda chi sei? Alza le mani. Amairi. Sei circondato? Alza le mani. Adesso togli i pantaloni. Ma chi sono questi, ragazzi? Riconoscete? Madonna. Quanto cazzo è lì? Allora, chi è che ha bucato le ruote prima di venire qua? Ehm. Ammè, non bucato. Gula nonna, te. Ehehehe, la dovevo andare, la dovevo andare, la dovevo andare. Ehm. Chi è? Uè? Uè, uè, uè. Dammi un po' di pietre, va. Sì. Ehi, aspetti. Eh, tieni un cortellino. Ehm. Sì. Vai, prenditi la metà, vai. Andiamo. Mamma mia, che due coglioni, fastidiane. Eh, sì. 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 No, questi quattro pezzi di merda che stanno qua non mi vogliono aiutare. Niente. Sì. No, mi vogliono aiutare. Ma questo che fa? Oh, vola. Che fa? Se ne vuole. Che nonno di merda. Oh, pezzo di merda. No, ti petto. Dove stanno i burattini? Vieni qua. Guardate un occhio, vieni, vieni, vieni. Che capelli di merda? Che tra poco ti calcano. Un soldato pesante, eh? Mamma mia, mi ha già già. Eh, sì, sì, sì. Che capone. Sì, sì, un capone. Senti. Non c'è più rispetto per gli anziani. Digglielo, diglielo. Poi si trova senza denti, anche lui. Eh. Eh. Chiaramente è più tardi di te. Poi, no, secondo me prima, ti metti la dentita fra poco. Pantuno. Pronto. Ecco. Ecco. Allora, che devo fare? Lo devo fare incazzare. Lo devo fare incazzare, ragà. Lo faccio incazzare. Ma quanto sei stato qua a coio? E' fatto sta cazzo di pietre? Ma ne ho fatto 600. Da tre quarti di uno. Mi sono rotti i coio. Mamma mia. Come fate? Ma guarda, non parlo. C'è chi le fa 2000 e sta zitto. Oh, pezzo di merda, sta zitto. Perché tu sai che le fa 2000 che tra vent'anni è bello giovane. Tu devi lavorare tu, lavoro. Lavoro, muovi. Hai visto? Non so se hai notato, il signore insulta dall'adietro. Chi è? Insulta dall'adietro, non viene qua. Ma chi è? Chi è? Quello che ha i capelli neri là. Ah, pezzo di merda. Però, l'ha venut chiedere denio. Ah, eh. Oh, no. 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 E' molto nonno Raga metto un po' di roba qua dentro Cioè raga come si va a fare? Manca una settimana ho finito tutto il livello Mi sto a tirare tutte le cose, mi sto a tirare Mi sto a tirare tutto raga E' capito, ringrazio Stavi per terra a tremare 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 Se tenevo la tattugia stavi tre metri sotto terra, stronzo Aha Sei Ma ti hai vergogna di fare burattino Eh vedi, fai un burattino No, tu fai il burattino, non il nonno Io Il burattino Tu sei il burattino qua dentro, forse non hai capito Sì sì Burattino Stai a fare una figura del merda C'hai capito tutto il capello Deglielo, deglielo a quel pezzo del merda No tutti, cioè tutti siamo dell'idea mia quindi Aha E' inutile che continui Meglio che te stai zitto, lavora Non parla che fa una figura del merda Ciuccio, lavora, ciuccio Ciuccio, ciuccio Ciuccio Piertante Ragazzi facciamo casino qua, facciamo casino ragazzi Io acquisto lo sparo ragazzi Fammi fare una bella fotografia, fam Ah Su le manine Buongiorno, buongiorno a tutti Buongiorno, buongiorno Buongiorno Buonasera Meno male che è venuta lei, non ce la facevamo più Che succede? E' questa quella con la maglia nera che sta rompendo le palle da 3U Buongiorno